Musica Gentili spettatori, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Question Time. Come ogni venerdì siamo ospiti del sindaco Alessandro Canelli che vado a salutare. Buonasera. Buonasera a lei. Lunedì c'è stato un aggiornamento sui progetti del PNRR e ne parliamo anche in apertura di TG Question Time, i progetti che ovviamente verranno realizzati nella nostra città. Sì, sono progetti molto importanti così come sono molto importanti per tutte le città italiane, sono progetti che hanno la necessità di andare avanti speditamente perché devono essere rendi contati all'Europa entro la metà del 2026 e voi capite che già i lavori pubblici in genere sono difficili da mandare avanti, da realizzare perché ci vogliono anni. Qui ci sono delle procedure semplificate che il governo ci ha dato per poterli fare più velocemente e noi questi cronoprogrammi di avanzamento li stiamo rispettando tutti e questo è già un dato molto positivo. Abbiamo tantissime risorse da gestire che ci consentiranno di fare tante cose. Noi, come abbiamo detto più volte, puntiamo molto, abbiamo puntato molto su una progettualità per fare nuove case popolari, quindi nuova edilizia residenziale pubblica nella nostra città che ferma sostanzialmente da 30-40 anni fa nella realizzazione, lasciamo stare le manutenzioni, questo ci consentirà quindi di fare un nuovo quartiere di edilizia residenziale pubblica laddove una volta c'era l'ex villaggio TAV che abbiamo svuotato completamente da quelle famiglie che vivevano sostanzialmente nei container, abbatteremo case e ne ricostruiremo altre, faremo nuove case popolari, poi ci saranno le piste ciclabili, le nuove scuole, nuovi asili nido, l'efficientamento energetico nelle scuole, cioè tanti progetti che stanno andando avanti secondo i cronoprogrammi, quindi abbiamo aggiornato la commissione specifica su questo tema, sullo stato d'avanzamento dei lavori e devo dire che tutte queste risorse che ammontano a 109 milioni di euro sono ovviamente risorse che dovranno servire alla nostra città per rafforzarla di tante infrastrutture che sono necessarie e da qui ai prossimi anni le vedremo realizzate. Sono previsti anche dei lavori all'Allea, rientrano anche questi nei progetti del PNRR? No, queste sono risorse che avevamo messo a disposizione ben tre anni fa, pensate voi. Finalmente sono iniziati i lavori, si tratta di rifare completamente le staccionate intorno al fossato del castello e su tutta l'Allea, sulla parte che insiste sia su Largo Bellini, quindi di fronte ovviamente all'ospedale, sia nella parte retrostante dell'Allea, quella che va verso i parchi, il parco dei bambini, il parco della questura. Un lavoro che attendavamo da tempo, che la burocrazia ci ha ovviamente rallentato. Tre anni però. Sì, vabbè, c'è da dire che c'è stato di mezzo al codice che un po' ha sospeso l'iter, però adesso finalmente sono iniziati, quindi contiamo entro febbraio di terminarli, ci sarà il rifacimento completo delle staccionate che mancavano o erano comunque sia deteriorate o distrutte e questo ci consentirà di mettere in sicurezza meglio e anche sistemare, rendere più dignitosa tutta quell'area. Senta, anche il Palla dal Lago è stato interessato dai lavori ultimamente, praticamente c'è tutto il piano, il parquet che è stato rifatto e anche questi invece sono lavori che sono stati già portati a termine. Sì, già realizzati, siamo andati a controllare la qualità del lavoro svolto che è molto buona, fatta, realizzata la settimana scorsa, hanno praticamente collaudato. è una pista da hockey e da patinaggio completamente nuova, se ne aspettava da tempo la necessità di doverla rifare e quindi l'abbiamo fatto, a questo seguirà tutta un'altra serie di interventi sull'impiantistica sportiva della nostra città, il campo d'atletica finalmente, da 30 anni si parlava di rifare questo campo d'atletica, finalmente lo rifacciamo perché abbiamo trovato le risorse anche lì del PNRR, realizzeremo un nuovo palazzetto dello sport alla Rizzottaglia, anche questo servirà sia alle scuole, sia ovviamente alle associazioni sportive che hanno sempre bisogno di spazi, in un quartiere popolare come quello della Rizzottaglia ci sta a fagiolo secondo me, realizzeremo altri interventi di manutenzione ordinaria che costano tantissimo sul palazzetto dello sporting, gli stiamo facendo questi lavori perché oltre a farle poi queste strutture vanno manutenute, se no poi cadono a pezzi e ci sono tante risorse che vengono richieste, hanno bisogno di tante risorse a disposizione, quindi stiamo lavorando su vari settori con tanti investimenti, ovviamente i lavori non finiscono mai, ci sono tanti da fare, poi ci sono le strade, i marciapiedi evidentemente, sui quali abbiamo messo delle risorse anche quest'anno superiore al milione di euro, piano piano andiamo avanti a rifarli, io so che c'è tanta gente che si lamenta dello stato del marciapiede, ma noi li facciamo i marciapiedi, non è che non li facciamo, però noi li possiamo fare tutti contemporaneamente. Senta, uno sguardo anche ai più giovani, il servizio civile regionale è un'opportunità per l'inserimento in ambito sociale e poi magari lavorativo. Sì, quattro posti a disposizione, candidature entro il 3 di novembre, è un'occasione per giovani che vogliono fare un'esperienza significativa all'interno anche della pubblica amministrazione di potersi mettere in gioco, di guadagnare qualche soldino, invece che fare il servizio militare che c'era una volta e che adesso non c'è più, questa è un'occasione per potersi anche robustire il curriculum professionale, nel caso in cui poi si voglia affrontare meglio il mondo del lavoro. Acquisire delle competenze. Acquisire delle competenze, quindi invito tutti i giovani che sono interessati a fare questa esperienza, ad andare sul sito o del comune di Novara o a orive.it in modo tale che possano candidarsi a fare questa esperienza. Parliamo anche di un confronto con altre città italiane, perché lei partecipando costantemente alle assemblee del Lanci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha la possibilità di capire con gli altri sindaci quale sia l'andamento e lei più volte ci ha detto alla fine Novara, comunque sotto vari profili, è una città fortunata, altre non sono così. Allora, l'assemblea di Lanci che avviene una volta all'anno, quest'anno è stata fatta a Genova, ci dà la possibilità di riunirci sindaci di città grandi, piccole, medie, noi siamo una città media, quindi incontriamo il sindaco, ovviamente c'era il sindaco di Genova che faceva il padrone di casa, ma poi sono arrivati a trovarci ovviamente il Presidente Mattarella che viene ogni anno, ci sono stati i videomessaggi della Presidente del Consiglio Meloni, sono venuti tantissimi ministri ed è un'occasione per parlare tra noi sindaci con il governo in prima persona, in modo tale da rappresentare loro le nostre difficoltà, anche di bilancio, in modo tale da scambiarsi esperienze positive e negative tra i sindaci, per esempio il tema della sicurezza, dei ragazzi che sono ovviamente fuori controllo nei loro comportamenti in alcuni frangenti della settimana, delle giornate, è un tema comune a tutti i sindaci, purtroppo, è un tema italiano, il tema delle risorse economiche, dello stato di adottazione del PNRR, lo abbiamo ovviamente affrontato tutti insieme, abbiamo bisogno di più risorse sulla parte corrente dei bilanci, cioè su quella parte del bilancio che ti consente di pagare ovviamente il personale e nello stesso tempo di erogare servizi per gli anziani, per il sociale, su questa parte qui i comuni hanno delle grandi difficoltà, così come ha delle grandi difficoltà tutto lo Stato, noi sappiamo benissimo che lo Stato ha dei limiti, dei vincoli di finanza pubblica, abbiamo fatto loro presente però che tagliare ai comuni potrebbe essere pericoloso, perché se da una parte tu cerchi di sostenere i redditi delle persone, ma poi tagli i soldi ai comuni, i comuni sono costretti per erogare servizi ad aumentare le tariffe e quindi quei soldi li riprendi dai cittadini, chiunque in Italia abita in una città o in un comune e quindi i comuni sono una delle parti fondamentali dell'architettura dello Stato e quindi vanno tenuti debitamente in considerazione in questi ragionamenti. Si è parlato anche di occupazione perché più volte avete lamentato proprio la carenza anche di personale, personale che è andato in pensione, non è stato rimpiazzato tra le forze di polizia ma comunque anche tra i dipendenti. Sì, diciamo che purtroppo non ci sono prospettive. No, nel senso la stagione concorsuale, quella con la quale tu assumi le persone all'interno del comparto dei comuni è ripartita molto forte. C'è scarso interesse da parte di tantissimi giovani soprattutto nel venire a lavorare anche in un ambiente all'interno degli enti locali. Non è più come una volta che c'era la corsa al posto fisso. Per dirla breve, adesso i giovani cercano posti più attraenti per loro con la capacità di svolgere attività più interessanti. Il comune è visto come un posto dove probabilmente non hai prospettive di carriera e guadagni poco. Anche perché all'interno della pubblica amministrazione chi viene a lavorare in comune guadagna di meno di uno che va al ministero per esempio. E questo è un assurdo. Con la stessa qualifica, con lo stesso livello mansionale guadagna di meno e quindi c'è una concorrenza sleale all'interno della stessa pubblica amministrazione. Ecco, su queste cose ovviamente abbiamo chiesto il governo di fare una riflessione perché ovviamente anche noi abbiamo bisogno di riempire il personale dei comuni di gente con mente fresca. Quindi giovani, preparati, competenti che si mettono a disposizione della comunità in cui vivono e in cui lavorano. Che poi magari dal di fuori sembra così, ma vivendolo poi tutti i giorni in realtà ci sono degli impieghi che sono anche parecchio stimolanti con tutto quello che poi viene affrontato dai comuni. Quindi dalla cultura al sociale. Quindi sicuramente un impiego interessante sicuramente c'è all'interno delle amministrazioni. Senta, terminiamo parlando di un evento, la mostra che verrà inaugurata il 4 novembre al Castello di Novara dedicata a Boldini, De Nittis e Les Italianes de Paris. È una nuova mostra, un nuovo percorso espositivo con ben 90 opere organizzate da mezzo per corsi d'arte che ci ha abituati a delle vere chicche che porteranno cultura ma anche turismo a Novara. Sì, perché quello che è successo negli scorsi anni, spero che si ripeta anche quest'anno, le prospettive sono ottime perché questa è una mostra di altissimo profilo, altissimo livello, a livello internazionale, non nazionale. Così come è successo negli scorsi anni ci aspettiamo flussi di visitatori consistenti, gli scorsi anni abbiamo sempre costantemente oltrepassato i 30-35 mila visitatori, speriamo di avvicinarci più possibile ai 40 mila anche quest'anno, le aspettative sono alte perché veramente la mostra è molto bella. Noi ci siamo specializzati in queste mostre sulla pittura dell'Ottocento, può piacere, può non piacere, però a tanti piace, infatti i numeri ci stanno dando ragione. L'Ottocento perché Novara ha una connotazione molto forte su quel periodo storico, Novara è esplosa da un punto di vista economico, sociale, architettonico proprio in quel periodo e quindi noi pensiamo che sia una mostra che sottolinei una certa nostra identità. In questo contesto ovviamente l'auspicio è quello che i commercianti, i ristoratori possono trarne beneficio così come è successo negli scorsi anni, quindi possono organizzarsi adeguatamente per poter sfruttare tutte le occasioni che l'arrivo di tantissimi turisti da fuori, perché la maggior parte arriveranno da fuori, potrà avere su di loro, sulle loro attività commerciali. Bene, quindi in attesa di visitare le sale del Castello, io la saluto, le do appuntamento a venerdì prossimo con la nostra consueta intervista. Grazie, buonasera. E grazie a tutti voi, dunque parleremo proprio di questa fantastica mostra domenica sera a partire dalle 20. Vi aspetto, arrivederci.